E' francamente molto deprimente vedere quello che sta accadendo, quello che è accaduto in Senato durante il dibattito e le votazioni per la riforma costituzionale. E' ancor più deprimente vedere la congerie di piccinerie che si intrecciano in questo dibattito ed è ancora più drammatico vedere tutte queste cose mentre altrove accadono delle cose ben più importanti che meriterebbero maggiore attenzione come questa storia di questo nascente califato, questa storia che ci presenta online infiniti video di persone che tagliano la testa ad altre persone perché non sono della stessa religione, atrocità in mani. Ebbene, perché non cominciamo a pensare al mondo anziché a pensare alle piccinerie di casa nostra? Grazie. 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 Grazie.